Musica Beer and Food Attraction 2020 ci troviamo allo stand di Fonte San Bernardo S.P.A. un'azienda italiana che realizza acqua minerale e bevande in più formati che oggi è ben rappresentata dal suo direttore generale Antonio Biella Antonio benvenuto Benvenuto a lei, benvenuto nel nostro stand E questo è uno stand diciamo fatto in modo davvero molto particolare, molto anche ben frequentato perché voi realizzate e proponete davvero tanti prodotti non solo al mercato italiano intanto la vostra azienda ha 96 anni, siamo sotto i 100, riusciamo a riepilogarla in un minuto? Sì grazie, la nostra azienda nasce nel 1926, è un'azienda italiana della provincia di Cuneo e visto che hai citato lo stand in maniera positiva è stato realizzato da un nostro amico che è un architetto che si chiama Carlo Gioria ed è stato un progetto anche in questo caso innovativo perché insomma un architetto che disegna uno stand è qualcosa di diverso insomma Sì, è uno stand dal design assolutamente innovativo che colpisce anche da lontano perché siete qui Antonio? Siamo qui per presentare una serie di novità importanti per noi che siamo sempre a ricerca di novità, di innovazioni da presentare nel nostro mercato in questo caso nell'oreca e oggi presentiamo la lattina, la nostra nuova lattina che non è soltanto un'idea di formato ma mantiene la classica eleganza di San Bernardo con un formato completamente nuovo, ecosostenibile come si usa a dire adesso o comunque alternativo alla plastica e il vetro che sono gli altri formati in cui si può degustare l'acqua San Bernardo abbiamo cercato però di mantenere la nostra classica eleganza, il nostro legame con le gocce quindi ci sono delle gocce sulla lattina in rilievo che si possono toccare si può avere questa sensazione tattile e poi la scritta San Bernardo in rilievo presentiamo queste lattine per partenza primo marzo chiaramente per cercare di intercettare quella sensibilità spinta verso la sostenibilità a cui cerchiamo di dare una risposta la vostra gamma si rivolge quasi prevalentemente al GDO, al settore retail e all'oreca ma in questo caso, nel caso di questo prodotto direi anche al settore della distribuzione automatica noi diciamo che le classiche distinzioni di canale le sposiamo meno rispetto a quello che fanno anche i nostri colleghi e concorrenti sicuramente noi siamo molto forti nel canale oreca e questo in particolare, questa lattina, sicuramente può essere un modo anche per rafforzarsi nel canale vending Antonio, grazie, forniamo un indirizzo di posta elettronica a chi ci sta guardando nel caso in cui desideri entrare in contatto diretto con voi senza alcun impegno grazie, infochiocciola fontisanbernardo.it grazie per il contributo e a prestissimo grazie, grazie a voi